I genitori di Shinsonic lo hanno abbandonato in un bidone della spazzatura alla nascita. Insieme ai suoi amici, dovrà diventare realista per vendicarsi dei suoi genitori. Questa è una gara. Questa è una gara. Mio Dio, voglio tornare da mia madre. 3, 2, 1, inizia. Wow, wow. Sono più alto. Cos'è questo? Ah. Sono più biast. Oh no. Oh no. Oh no. Così vicino. Rosa o pistola fratello. Cos'è quello? Smettila di sparare. Lei vincerà. Wow, wow. Ah, zombie. Impossibile. Impossibile. Scarte. Le mie gambe. What? L'ultima. Vado per primo. Mio Dio. Scegli me. Scegli me. Scegli me. Oh mio Dio. Scegli me. Segli me. Lui è cattivo Ti scelgo Sì No Wow Dove siamo? Puoi aiutarmi a scendere Wow Per favore è buono Fammi vedere cosa hai fatto Hai hackerato molte persone Aspetta, questo è davvero brutto Il prossimo No, no, no Stava picchiando il suo ragazzo È vero Tubers? Sì Mio Dio Smetti di mentire Sei una cattiva persona Ultimo Non riusciva a smettere di ritare Ok, questo non è male Ma sei comunque cattivo Ciao No Metti mi piace e iscriviti prima che quei robux spariscano dallo schermo Oh ciao Dove sono? Mostrami le tue azioni Stava rapinando banche Amico Restituirò i soldi È troppo tardi Mostrami la prossima cosa Amava Harley Quinn M Va bene Lo amo Mio Dio è bello Ultimo Stava picchiando i più potenti M Ero buono Dammi i tuoi soldi O hai cercato di aiutare È una cosa buona Ah, adoro questo lavoro L'ultimo il più difficile Ah, povero Cosa sto facendo qui? È il giorno del giudizio Ti pagherò Faceva il bullo ai poveri Bacon Fratello, perché hai fatto questo? Amo i soldi Prossimo Stava scorreggiando addosso alle persone È disgustoso Mi dispiace Ok, non è male L'ultimo Non usciva perché era odiato dalle persone Non è male Eri triste Vai qui Ah, gran giorno Ok, penso di poterti dare un'altra vita Davvero? O nuovo bambino Mi hai adottato? Sì, mostrami le tue abilità Questo è troppo grande Sei devo Bambini Ho avuto È stato così vicino Perché mi trovo in questa situazione Di notte Prendiamo vendetta Papà sta dormendo Muscoli Oh mio dio Ecco il suo cervello Odio questo bambino Sta cercando di prendermi a calci Distruggerò i suoi muscoli Ah Ho perso tutti i muscoli Eventually Il mio compleanno Dammi i miei regali Un libro? Per te Wow Sembro grassa per te Il mio turno Ho trovato un fiore Per te mamma Cattiva Ehi, controlla la tua altezza Va bene, va bene Io per primo No Perché Sei troppo piccolo Mio dio È il mio turno No, 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 no No, per favore Aiutami Invio potere a bocca Cosa? Come? Perché? Ah Puoi andare Ho potere Non può essere così Oh no È il tuo momento Sono bloccato Fa male Non è ancora finita È abbastanza Devo sollevare È difficile Dargli poteri divini Wow Ho le mani Ah Funziona Sembro fantastico Ah Lasciami provare il mio potere Wow Wow Ho un potere incredibile Oh Cosa sta succedendo Bully Fratello Non sono tuo fratello Qui è il tuo posto Prigione Per favore no Per favore no Ah Cosa è appena successo Wow E si ricomincia La persona che perde Non torna mai indietro Wow Prossimo Ah Cosa dovrei scegliere Prossimo Sei un principiante Sto scegliendo i bene È ora di giudicare Catturava i criminali più ricercati È fantastico È stato licenziato dal lavoro È stato licenziato Oh no Ma non è male È stato arrestato E ha formato una gang L'ultimo ha formato una gang lol Ma va bene Chi è il prossimo? Figlio Per favore Ero buona Mio dio Mamma Mai Ciao Ok Ho finito il mio lavoro Mi hanno detto Che tutto ciò che disegno Diventa reale Che stiamolo Ho creato dei bambini bellissimi A Mutiamoli Fatto Non mi sento bene Papà Vieni qui Ancora Oddio Ha funzionato Il mio pennello è il migliore E mi aspetta Ehi Riportaci alla normalità Orario della lezione Bambini Disegnatemi Facile Buono Evviva Il mio turno Buono Lascia che te lo disegni Che cos'è questo? Cattivo Aspetta Mi dispiace Ho troppo potere Non disegnerò mai più niente PopCut cosa hai fatto? Ho bisogno di disegnare Fatto È la tua fine PopCut Oddio Cosa è appena successo? Se ho dei superpoteri Come posso fare soldi? Guidare attraverso quei dossi Per un milione di dollari Prima io Ah perdenti Il mio turno Posso provare? Ah si ma perderai Devo disegnare una macchina Fatto Wow Sta volando Aspetta Come? Facile Questa è impossibile Ho bisogno di una nuova macchina Ah Andiamo Oh mio dio Ce l'ho fatta Un ultimo Ce l'ho fatta Non posso credere a quello che è successo ma ecco il tuo premio Sono ricco Sono ricco ma ne ho bisogno di più Chi salterà più lontano vincerà l'intera terra Oddio È questa la mia macchina? Sono il primo Bel salto Il mio turno Che bel salto Tocca a me Perdenti Buon salto Tempo per me Nug Oh my god Arriverò alla mia Lambo Salto intermedio Ora è tempo per il bagno Aspetta È troppo lento Lasciate che mi disegni una nuova Fatto Wow Oddio Quasi la fine Congratulazioni Hai vinto la terra Ah andiamo La polizia Lui sta imbrogliando Catturatelo Devo disegnare una macchina Fatto Wow Devo disegnare Disegnare di nuovo Fatto Ok È ora di distruggerli Wow Ha funzionato Capo Cosa devo fare? Saltami addosso Grazie Ora devo nascondermi Perché ce ne sono altri Oh no Cosa dovrei disegnare dopo Boom Pocat Aiutami Stanno distruggendo la mia fabbrica Oddio Disegnerò personaggi personalizzati Non ti preoccupare Fatto Wow Ora penserò a qualcosa di strano Fratello Che bello Sta qui Prossimo Ah incredibile Ultimi due Oddio Prossimo Fatto Wow Ok attacco Grazie mille Pocat Nessun problema Ma ora sei in arresto Mi dispiace Cosa? Si fermi Si fermi lì Incredibile Sono in prigione Disegnerò la fuga Bello Ume Ume ciao Sto valutando da ora Ha perso la testa E ha bisogno di qualcuno Che ne disegni una nuova Lo farò io Bello Tutti i suoi amici sono morti E ne voleva di nuovi Tutti i miei amici sono morti Aiutami per favore Disegniamo Fatto Evviva Prossimo Stavano facendo il bullo Con il giocatore E lui voleva L'ultra Crucifisso Per reagire Mi sta maltrattando Per favore Disegna un Crucifisso Non c'è da preoccuparsi Grazie Grazie Tutto l'uno Il prossimo è Zolfius Si è trasformato in piccolo E voleva diventare più grande Per tornare in gioco Ok Fammi provare Fatto Grazie Voleva essere più grande della terra Oh Sarà difficile Ma ce la farò Ok Ce l'ho fatta Bene Ha rubato l'autobus Con i bambini di Ramby Friends È brutto Quindi ciao ciao Facile Ok il prossimo È stato picchiato dai bulli E voleva denti E ossa nuove Per spaventare la gente Disegniamo Fatto Wow Questo è così fido Ha mangiato i bambini Dell'uccello opila Ma poi se ne è pentito I bambini restano qui Per un momento Oh Dei bambini Una buona cena Aspetta Non mi sento così bene Perché ci hai mangiato Ehi se vuoi ottenere Robux Per i prossimi dieci giorni Metti a mi piace E iscriviti ora Ha cambiato il suo gioco in porte E stava inseguendo le persone Come tazzo Smettila di inseguire le persone Fratello Il prossimo Aveva bisogno di nuovi personaggi Per il suo terzo capitolo Sai disegnare i personaggi? Sì Ho un'idea Perfetto Il prossimo Fatto Oh no fa schifo Ma lo amo Aspetta a prendere il vestito Grazie Il prossimo Fatto Forse l'ultimo Oh my god Disgustoso Che cosa hai detto? Il prossimo Voleva valutare ogni jump scare Di ognuno da Garten di Bambam Oggi valuterò tutti i vostri jump scares Prima Hai Ora tu Buono Prossimo Ora tu Ah cattivo Non fa paura Il prossimo E' lo squalo Spaventoso Ora scrimme Eugen L'ultimo Buono Wow è stato impressionante Il prossimo morto Voleva mostrare ogni faccia Di ogni giardino personalizzato Di Bambam Mostrerò la tua faccia Nella vita reale No M6 metà cattivo E metà buono Va è libero Prossimo Aveva tre fratelli Che avevano fatto le loro case E il lupo cattivo Stava cercando di distruggerle Ehi Io farò una buona cena Dobbiamo nasconderci Nelle nostre case Perché sta arrivando Farò saltare in aria Le loro case Buono Ora tu Sono troppo debole Finalmente L'ultimo Non funziona È troppo forte Sei sopravvissuto È bello Voleva essere più magro Perché la gente Lo prendeva in giro Lo farò Wow grazie Voleva una moglie E dei figli Ok Ti disegnerò una moglie E dei figli Siete dei bellissimi bambini Ah bello Lo chef Il figlio ha rubato i figli E ci ha fatto gli hamburger Quindi li vuole indietro Cibo piacevole Torna indietro Cuciniamoli Non sotto i miei occhi Per me sei una persona perfetta Ok il prossimo È così puzzolente Che quando scorreggia C'è un allarme tossico Non credo che le tue scorreggie Siano così cattive Sei sicuro? Sto per morire Mangia la cacca E poi fa la cacca Più grande del mondo Oh cos'è questo? Lo mangerò Buono Oh aspetta Devo andare in bagno Buono È ora di lavarsi le mani Che diavolo Il prossimo È così disgustoso Che fa la pipì Sul gabinetto chiuso È ora di fare pipì Fatto Nooo Ha bisogno di sapone Per punirsi Perché tutti stanno morendo Per il suo odore Lascia che lo disegni Fatto E per me fai solo schifo Ma sei una brava persona Prossimo Aveva una cotta per Baldi E voleva che lui Si innamorasse di lei Per favore Baciami Sei così intelligente Che dovremmo stare insieme Ok Prossimo Volevano avere Dei figli ultra intelligenti Ok Fammi disegnare Fatto Sei così intelligente Stava dando la caccia alle persone E le uccideva E qualcuno Doveva fermarla Wow Wow No 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 Smettila di inseguirmi Devo disegnare Ok Fatto Ora Ti amo Qualcuno mi ha allungato Mamma Papà Popcat mi ha trollato Che cosa? Per favore non parlare Devo imparare Wow Wow Sono intelligente Secchione Secchione Perché hai trollato Tua sorella Cosa? Oh my god Mi ha fatto male Non ero io Non ti credo Inizia a sollevare Aiutami Ah Di note Le mie ossa Aiuto Genitori Dove sono? Guarda cosa gli hai fatto Se perdi Sei fuori dalla nostra famiglia Ma non ero io Sei stato tu Inizia Oh me ha rubato il mio Non può Devo imparare Wow L'ho fatto Fammi imparare Dove è il suo punto debole Qui Ah Difficile Cosa non piace ai King Kong? Dita Facile Vediamo come saltare più in alto Bello Sta arrivando Godzilla Godzilla Ah L'ultimo Non può essere così Per favore no Non ero io Davvero Ti odio Non tornare più La note successiva Sono troppo alta Genitori Sto chiamando la polizia Sono così triste Sei arrestato Cosa Non funziona Dimmi cosa hai fatto Non lo so Come niente Stai allungando la gente di notte Surprise E' falso No Prigione Sono troppo intelligente Uscirò Guarda Ha perso la chiave Facile Facile Veloce Ai E' stato disgustoso Sei troppo intelligente Dove mi hai portato Dobbiamo renderti stupido No Ti prego No Sono così stupida Non so come camminare Non può essere così Devo imparare Wow Matematica Ehi Cosa Abbiamo bisogno di te E che Cosa hai fatto Mi dimetto Da questo lavoro Oh Ok Ok Prima di tutto Un Non ho fatto niente OMG Fratello Vediamo cosa hai fatto E' stato catturato Mentre distruggeva edifici Mostrami il filmato Qui signore Grazie fratello Ridammi mio figlio Mai Dai ridammielo No Mi piace Sottoscrivi la casa Uguale per questo bambino Wow Era triste Stavi cercando di salvare Tua figlia Grazie Ha bevuto la pozione Ed è diventato verde Aspetta Questo è davvero brutto Vai qui Ha vinto un gioco Di tiro alla fine Con i calamari Grazie ai suoi muscoli Va bene Sei libero Bello Il prossimo è difficile OMG Gru e i Minions Cosa Liberi Lasciateci liberi Ha rubato la luna Questo è male Usciva con le ragazze Minion E M Questo è strano Gruto Cosa Ha sganciato una bomba nucleare sulla terra Aspetta questo è super cattivo fratello E l'ultima cosa Ha fatto uscire il virus dal baratono con il dottore Aspetta È vero Sì OMG No Ehi Vai in prigione No Sì Dammi la prossima Il prossimo Pibi Cosa OMG Sembra un'immagine di ciata Lasciami in pace Smettila Vediamo cosa hai fatto Stava creando i bambini È ingiusto Smettila di farlo Ha un coltello in tasca Stava scavando sotto la prigione Troppo Il prossimo Ato Ha dato fuoco alla sua scuola Fratello Smettila Questo è male Il prossimo Ha punito l'insegnante con un trucco orribile E i capelli Sei cattivo Vai nella tua cella Sei libero per questo Grazie Finalmente Devo imparare di più Wow È molto Ok Sono pronto Genitori Statisticamente è impossibile che sia tornato Non mi importa Torna quando sarai più forte Ok ok OMG Devo allenarmi come un professionista Wow Sta funzionando Ora il mio cervello dice di sollevare Cominciamo Wow Il prossimo Wow Guardami Difficile Ma funzionante Ce l'ho fatta L'ultimo Ah Lavorare come sempre Perché ti sta facendo questo? Genitori Ora posso risolvere chi sta facendo questo Wow Sì Di notte Ok bello Dormire E mi nasconderò qui Sei dolce È ora di prenderlo Torna indietro Ah Ti ho preso Dove è andato? Sto entrando Vieni qui Dove sono? Ehi È scapato Vediamo cos'è questo La vita dell'amico arcobaleno Dacci i tuoi soldi ragazzo No Aiuto Ah Ehi Fermati Oh mio dio Grazie Vuoi essere la mia ragazza? Sì Vuoi sposarmi? Mi prendo i tuoi figli Troveremo i nostri figli Non preoccuparti Wow questa storia era triste Ma ho perso lui Hello there Oh my god OMG Lei è così alta Aiutami È troppo Sto richiamando la polizia No per favore Non se ne parla Il mio vecchio lavoro Ciao sono un uomo davanti alla finestra Ha roto le ossa ai bambini Male 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 Si fermava davanti alle porte delle persone per ore e le fissava E' strano ma va bene L'ultimo Si è sbraiato facilmente sotto il letto del bambino Strano e illegale Andrai in prigione Il prossimo Non c'è modo Vieni qui Gargamella e i Puffi Sì Hanno attaccato la città dei piccoli Puffi Fecero una zuppa di Puffi Ha schiacciato le case dei Puffi con il suo chiede Ok sei una persona cattiva Ma tu sei libero Bello Oh no Jenna Vieni qui Smettila di baciare Aiuto Ok vediamo Aveva una cotta per PopCut N mi sento strano a Bene Ha hackerato il computer di PopCut Stava insultando in un gioco per bambini Bello bello Vai in prigione Puoi andare No Ah Easy E' ora di risolvere l'ultima domanda Ho lavorato su questo per così tanto tempo E so come prenderlo Ah No non l'ho fatto io Siete arrestati Ciao a tutti Ti ho preso Quindi ora devo giudicarvi Ma prima Non ho fatto nulla di male Aggrediva i bambini all'asilo Truffava la gente per soldi Non è un bravo ragazzo Non mi interessa Stop Lui impiega illegalmente dei bambini per lavorare per lui Dio mio Sei una persona cattiva fratello Prossimo Prendevano i giocatori e li schiacciavano E' vero questo? No No Si lo era No E' il tema Cattivo E invitavano le persone alla fabbrica Bene Cambiavano le persone in giocattoli Oh my god Oh E' una arma Molto male Andrai in prigione No No Oh no Il giocatore è il prossimo Sei stato in prigione? Si Mi dispiace Faceva il bullo a Ugi Waki Non bene Mi dispiace Questo è per te Oh grazie Questo è stato bene Apriva le porte con il suo grab pack Ha gettato papà e mamma long legs in una tritta carne Non sei così cattivo Sei libero Ok solo due rimasti Ciao sono un mangiatore di treni Attaccava i nemici ai binari e li faceva investire Dio era brutto fratello Non bene Non bene Mi dispiace Vediamo il prossimo Demoliva gli edifici Perché? Non lo so No 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 Fermati Sei cattivo Mangiava i bambini dopo averli presi Sei super cattivo Qui E' l'ultimo Perché hai fatto questo? Posso mostrarti Vuoi vedere la mia faccia? Si Questo è il Il riccio blu è diventato L'ho ripreso dalla telecamera Mentre visitava casa mia E mi toccava mentre dormivo Il riccio blu è a casa mia Mi dispiace Volevo baciarti Aspetta Non sono Hai sbagliato persona Hai sbagliato persona Abbiamo bisogno Riccio blu Cosa sta succedendo? E' la mia casa Devo andarci Oddio Cosa sta succedendo qui? Riccio blu Devi questo Ah No mai Dammi quello No Ora esploderò Oddio Cosa è successo qui? Perché tutti sono bambalena? Questa pozione ci ha trasformato in bambalena E ora devi scoprire chi di noi è il riccio blu Oh my god Bambam Quale pensi sia la tua ragazza? Questo Posso sentirlo Non credo Era Stinky Joel L'hai baciato Quindi abbiamo ancora 10 bambalenas Ora dobbiamo controllare le vostre voci Prima bambalena Wow Bellissima Prossimo E ricordati che le risposte sbagliate saranno punite molto duramente Ok Non sospetto Prossimo Ciao Dove ti stai nascondendo? Per favore Fa male Sono forte Um Non suona esattamente come bambalena Ma va bene Ma va bene Prossimo Ascolta Se riesci a sentire quello che sto dicendo Fai un cenno a qualsiasi telecamera Cosa? Voce maschile Sei un sospetto Prossimo Quindi ci incontriamo di nuovo Dove sono i miei figli? Prossimo Sto venendo in questo posto e poi mi viene ricordato che tutto per cui sto lottando vale tutto lo spazio e la sofferenza Sospetto Prossimo Mi ha portato in bagno Questo era strano Prossimo Piacere di conoscerti Um Penso che tu sia malato Prossimo Sei stato uno studente cattivo Bene Ultimi due Cosa? Ok Questo è Opila Ma l'ultimo Ok Questo sembra normale quindi tu Stai uscendo Avevo ragione Sono rimaste solo nove bambalena Quindi ora devo controllare i vostri spaventi Numero uno Ok Bene Prossimo Non male Sembra reale Ok Questa persona era sospetta prima Attaccami Dove pensi di andare? Wow Era come bambalenas Non sei più un sospetto Prossimo Ahia la mia testa Era reale Prossimo Ora tu Cosa era quello? Non è bambalena Fai di nuovo Il secondo Il secondo era reale Prossimo La mia testa Ma era uno spavento molto sospetto Prossimo Di nuovo Oh fratello Oh fratello Perché il dottore ha cambiato il mio cervello Sospetto Prossimo Un Un Spavento incredibile Mi piace Sei reale Prossimo Cosa era uno spavento Cosa era quello? Lo spavento di Fiddles Sospetto Prossimo Tu lo sai Aia Perché lo spavento di Bambam? Oh Ho appena cliccato il pulsante sbagliato Era ancora Bambam Stai venendo eliminato Ah Era Bambam Ops Ok Prossima categoria Disegnati ora Ok fatto Non sono bravo a disegnare Facile Non un bel disegno Prossimo Non il migliore ma ok Prossimo Wow Prossimo Wow Buono Prossimo Brutto Sei un sospetto Prossimo Um Perché c'è un Stinger Flynn? Cosa? Um e nulla Strano Prossimo Buono Wow Hai dipinto un modello 3D E l'ultimo Um Scerifo Che diavolo Mi dispiace ma stai venendo eliminato Ciao ciao Ah Avevo ragione Non ne restano molti Prossimo devi disegnare la tua cotta Facile Facile Mostrami Ohio Bambam Prossimo Bene Ok prossimo Cosa? Figo Prossimo Bambino ma Bambam Quindi ok Prossimo Bambam malvagio Bene Questa è la mia cotta Aspetta Cosa è questo? Um e E tu? Ragazzi siete sospetti da ora Ma ora Bambalena era molto forte Quindi colpisce questo muro Non è il migliore Prossimo Quello blu Bambalena era molto meglio Prossimo Quello rosso Lasciami pensare Meglio del precedente Viola e arancione Perché questo? Viola molto bene Ma arancione Questo è il migliore Questo è brutto No 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 Ne restano tre Facciamolo Vai Siete al sicuro ragazzi Mi dispiace fratello Ma sei falso Per favore no Stinger Flynn Quindi ne restano solo sette Ok Quindi ora ho una domanda Quando Jumbo Josh Ti ha colpito e afferrato Dove sei andato? La risposta corretta È nella stanza su andate Je ne suis pas dué pour des saints Um siamo andati a un appuntamento Stavamo bevendo caffè Per favore Lasciami in pace Wow Mi chiedo dove l'ha portata Sembra reale Ok quindi ora tu Lo stesso Data Ok Lasciami pensare Mi ha portato per l'operazione E voleva cambiarmi Ah è ora di cambiarti Ah perfetto Un strano Ok tu Mi ha portato a Umme In prigione Cosa Non credo sia corretto Ok tu Data Prossimo Mi ha portato fuori per un appuntamento Ok tu Mi ha portato in bagno Cosa Metti like e iscriviti o Bambalena sarà nel tuo bagno Fratello sei un sospetto E l'ultimo Sì Ok non riesco ancora a scegliere chi uccidere Quindi ora Bambalena era molto veloce Benvenuti al torneo finale Siete pronti Sì Sì Wow È così veloce Prossimo E prossimo E prossimo Ok Vediamo chi ha vinto Bravo Sei stato veloce E aspetta Perché ne manca uno Mio dio Mi dispiace ma devo ucciderti Ciao Lumaca seline Bambalena era intelligente Quindi ora risolvi questo quesito Vieni Una mela più una mela equivale a Due mele Hai ragione Bene Prossimo Pomodoro più acqua equivale a Zuppa di pomodoro Hai ragione Sei legittimo Prossimo Aereo meno carburante per auto equivale a boom Wow Sei così intelligente Prossimo È così facile È zuppa di pomodoro No Cosa Assassino più coltello equivale a morto Non sei bambalena Ciao Zolfius Non bene ma abbiamo solo 5 bambalene rimaste Ok quindi disegnati e poi diventa quello Tu per primo Fatto Wow sembra bambalena Ok quindi ora per il prossimo Facile fratello Aspetta Cosa è questo Sei un sospetto Ok dopo un sospetto il prossimo Andiamo Bambalena più nabnab Molto strano Ma ok Ora tu Cosa è questo Zolfius più bambalena Prossimo Facciamolo Cosa è questo Fratello Stai ricevendo una spilletta di sospetto Quindi ora bevi questa pozione e vedremo la tua forma mutata Mostrerà chi è reale e chi no Vado per primo Potresti essere bambalena Ok quindi il prossimo Questa pozione l'ha eliminata Fratello Ok quindi il prossimo Grande prossimo Mio dio Questo è sospetto Hai il corpo di nabnab Quindi il prossimo Questo è falso È raccocci piccoli Mi dispiace Ok quindi abbiamo solo 4 bambalene Ok quindi ora ragazzi voglio vedere cosa avete fatto nella vostra vita Cominciando con il primo Lei era super forte Perché sei così forte? Ah sono sempre stato così Ok questo era corretto Bambalena è forte Prossimo La radiografia mostra che all'interno del costume di bambalena ci sono due persone Ok ora vediamo cosa c'è dentro di te Cosa? Due persone Ok questo è sospetto Due persone sono in pigster Lei ha ucciso bambam perché era con nabnablena Ok bambalena potrebbe essere gelosa di bambam È corretto Lei era innamorata di pigster Aspetta Tutto questo mi dice che sei un pigster Avevo ragione Ah Ne restano solo 3 Lei è stata morsa da bambanni Poi ha perso la mano È vero e corretto Prossimo Lei era ultra intelligente E ha risolto un milione di problemi matemati Questo è il problema matematico più difficile del mondo Due più due Quattro Mio dio Sono così intelligente Sei intelligente come bambalena Era molto lenta come una lumaca Era come una lumaca quando camminava Mostrami come cammini Mio dio È la cosa di lumaca seline Strano Prossimo Lei puzzava Bella cena bambalena Non mi sento così bene Oddio cosa Mio dio È come Stinky Joel Aveva un sacco di peli sul corpo Ed era disgustoso Che diavolo Strano Aveva una grande pancia Perché amava mangiare Fratello Stava spaventando i nerd Siete tutti nerd Odio i nerd Attacco Ok prossimo Lei era la cotta di tutti Anche di Adam di Lenkybox Sì è vero Tutti amavano bambalena Aveva dei bambini con bambam Mostrameli Wow Sono dolce È stata colpita da Jammo Josh Shinsonic è sceso dallo scivolo più pericoloso del mondo Devo provare questa scivola Aspetta Sono bloccato Per favore non andare Vado fratello Oh no lo sento Farà male Oh pipì Sto aspettando il mio fratello adesso Forse è bloccato anche lui Fratello Yes Yes No Ma Fratello No Era colpa di questa scivola Sì Lo stiamo chiudendo Era troppo pericoloso Sono triste E solo Bambini volete giocare? Cosa? No Noi ti odiamo Tuo fratello è stato posseduto Come osate? Venite con me No Questo è proibito Un cosa? È morto OMG Devo provarlo di nuovo Ok andiamo Cosa sta succedendo? Devo correre veloce Ehi ragazzi Volete provare la nuova scivola? Venite veloce Devo vedere cosa sta succedendo 5 hours later Aiutaci gatto OMG ok Gli ha distrutti Devo fare qualcosa Facciamo il peggio Prendendo la direzione sbagliata Perchè sono così piccolo? Aspetta Non ha fine Non posso Aspetta Non posso Cosa è successo? Chi ha chiuso questo? Questo non è normale Devo chiamare la polizia Adesso Aspetta chi è quello Per favore aiuto 1 Dove sono? Nessuna via d'uscita Devi scivolare Ma Devo scivolare? Questa è la punizione per chi va dalla parte sbagliata Devo scivolare Questa è una scivola prebita OMG Spero di sopravvivere Metti a mi piace e a iscriviti Se non vuoi scivolare su questo Le mie ossa 3 days later Sono tornato La scivola È normale E cosa è questo? OMG Devo fare pipì Veloce Sono in sedia a rotelle Devo provare un modo diverso A Prossima prova Taxi A A Max Ok questo è troppo Bello Un Cosa è successo? È troppo Non posso rischiare la mia famiglia Chi sei? Devi aiutare fratello No Non aiutarlo Ume Stanno combattendo LOL Scelgo di aiutare il fratello Cosa è questo? Devo entrare Ume Dove sono? Questo è inquietante Devo correre Non entrare OMG Cosa ho appena fatto? È tutto per il mio fratello Devo correre Sono troppo piccolo Oh mio dio Dove sono? Devo ucciderne uno Per favore Non uccidermi Ero povero E nessuno mi voleva Non uccidermi Ti amerò Ehi Oh What the You've hit the wrong house Boo Ah Se scegliessi lui Sarebbe male Tube Bess versus bambino Bello Ti darò robots Un me Bello Ti farò ridere Ah Wow Questa scivolata è spaventosa Cosa dovrei scegliere? Wow Squid Game Ci piace Sono morti Denaro o bambino Denaro Sto scherzando Cane o gatto Gomma da masticare o exe What is that? Un me Cosa? Pipì o cacca? Ha? Bruh Iai Ce l'ho fatta Raccogli tutte le chiavi per aprire il cervello Penso che ci sia il mio fratello Fratello aiuto Devo raccogliere le chiavi Ma dove? Voglio hackerare tutti Voglio essere il miglior hacker E voglio stare con Roblox Wow Questo è il cervello di Jenna E la chiave Prima chiave Amo mangiare la pancetta Voglio stare con Jenna Voglio riavere la mia famiglia In realtà sono buono Non sono una persona cattiva Wow Tu best è carino Ho fatto la zuppa per te Un me Grazie Voglio essere ricchissimo Voglio bandire Pop Take da Roblox Voglio uccidere tutti gli hacker Lei è mia moglie Bello Oh mio dio Sono nel cervello di Roblox Spero che mi dia StarCode Oh ciao Dove è la chiave? Grazie Ok posso uscire adesso Ok posso uscire adesso Cosa è successo a questa diapositiva? I bambini vanno via Ok aspettiamo la notte Ok Andiamo Oh mio dio È vivo Entriamo Sono spaventato Aspetta Vedo qualcuno È Jenna Questo è inquietante Mister Beast Jenna Di che? Fratello guardati dietro Eh? Cosa? Non può essere vero Oh no Dove siamo? Corriamo Devo trovare una via d'uscita Ok Finalmente Abbiamo trovato una via d'uscita Ma ora dobbiamo distruggere questo Sì Questa è una bomba Sai cosa fare? 5 4 3 2 1 Vai OMG Ce l'abbiamo fatta Cosa è successo alla mia scivolata? Cosa? Hai costruito questo? Sì E ti distruggerò? You picked the wrong house, fool Ah Oh Cosa sta succedendo? La persona che vincerà questo nascondino Riceverà un sacco di robots Ma la persona che morirà Mostrerà il suo volto nella vita reale Non mi sto mettendo a rischio Non gioco OMG Era il suo volto nella vita reale Ma ok Mi unisco a questo per Robux Devo sfamare i miei bambini Iniziando ora Cosa? Ok Devo usare gli hack di Brookhaven RP L'ho visto quando mi sono unito al server Apriamo questo 3 secondi Nascondi Aoi Posto migliore Iniziando ora Ti vedo Ah Era a Brookhaven Questo è Brookhaven normale Ah Ti vedo Oh no Sta arrivando lì Devo nascondermi in fretta Idea OMG Cos'è questo posto? C'è qualcuno al 100% Posso sentirlo? Wow Oh no Sonic è qui Ti prenderà Bru Oh devo scappare Sento qualcosa Oh oh Ah Ok devo scappare da qui Two hours later Prossimo posto Bara in chiesa OMG Questo posto è un posto da 100 qui per nascondersi Fatto Aspetta Cos'è questo? Wow Jenna La gomma ha fallito Hai usato la gomma da masticare per incollarti al soffitto Sì Sposiamoci O n cosa? No Aspetta Sonic è qui Non ho posto dove nascondermi Sento in questo posto due persone Dimmi dove sono i tuoi amici Um Ok ti dirò Lui è Dove? Da nessuna parte Ah Bel volto Iscriviti per il volto di Jenna per favore Dove sei? Ok scappo Ma ora devo trovare un altro posto dove nascondermi Pockat Cosa? Nasconditi in fretta Sta arrivando Ho questa pozione OMG Cos'è questo? Non so cosa succederà se la berrò Ok ho un'idea Vieni Non è successo nulla OMG No Ora è impossibile per te nasconderti Bru Aspetta cosa succede se mi lancerà su questo cartello OMG Questo posto è incredibile 3000 IQ Grazie fratello Iai Ora devo nascondermi anch'io Ok in bocca al lupo Spero che sopravviva Mi chiedo dove è il cercatore OMG Sì è sotto di me Sento qualcosa Ti ho preso Oh ehi Oh ciao Sai dov'è il bagno? No Accanto alle collezioni No OMG Così vicino Ero così vicino Sono quattro persone rimaste O vedo qualcuno Shhh Devo nascondermi in fretta Ma dove? Cos'è questo? Assolutamente no Sono nelle stanze sul vetro Ben Ben Seguimi Ok Oh no Piscine tossiche Sono saltato fuori Oh no Ti ho visto Aspetta Chi è quello? Fratello aiutami Sonic è vicino OMG Vieni Oh no Questa piscina ti ha cambiato Devo scappare Mi dispiace No per favore Ok Devo scegliere le porte Più porte Più porte Ok Ok Queste vanno bene Aspetta Ben 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 Posso nascondermi dentro di loro Dove sei gatto? Nascondermi in fretta oh no niente qui e ora l'ultimo ho tempo grazie Shrek wow scappo ho bisogno di aiuto Genna giusto lei ci aiuterà ciao fratello oh no due nascosti qui ho qualcosa cosa? ce l'ho fatta ok proviamo cosa sono indisibile? questo è barane dammi quello l'ho bevuto scusa Popcat guarda dietro di te oh no run sono indisibile è meglio che cora più veloce delle gambe lunghe Popcat mi sto nascondendo qui dove sei? non ho bisogno di nascondermi forse qualcuno è là a ti ho trovato? no ok scappo di nuovo sono due giocatori rimasti e la mia pozione ha smesso di funzionare omg cosa è successo qui? oh mio amico ciao è stato preso sono due giocatori rimasti vincerò mai o questo posto sembra strano ottimo posto per nascondersi ecco ti ho trovato ti ho trovato facile solo uno rimasto abbiamo dieci minuti o lui vincerà o no? è ora di scappare ok ho avuto questa idea pazzesca pozione riduttiva più casa uguale miglior nascondiglio di sempre sono così piccolo lol guarda questo è il pollo di brookhaven sono come un pollo oh no è qui forse oh solo 20 secondi rimasti sto andando oh no ho vinto ora dammi 100.000 robux oh no ok hai vinto facile sono in ritardo per la matematica non posso andare più veloce popcat sei in ritardo mi dispiace insegnante sono pronto a fare l'esperimento aggiungiamo gli ingredienti questo questo esperimento determinerà se rimarrai in questa scuola oh mio dio cominciamo porca tu tu oh me hai fatto un lavoro incredibile oh yeah prenderò ai dannazione na 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 ehi tu oh me perché hai fatto questo a noi devo andare you're too slow papà ho preso a e guarda non ci interessa perché devi essere veloce e non intelligente sono così triste nessuno mi vuole bene cosa sono ho allucinazioni ok andrò dai miei genitori e lo dirò loro tra tre minuti andrai in gara con tuo fratello umme va bene dovrei allenarmi la mia famiglia vuole che io cura molto ma questo cibo è incredibile oh mio dio era così buono ciao papà cosa ti è successo presto umme il vincitore riceverà i giocattoli ma se perdi sarai punito ok andiamo sarà facile 3 2 1 like e sottoscrizione equivalgono a un osso per pocket figlio sono orgoglioso di te è stato facile questo è per te evviva voglio di più em cosa otterrò per averci provato questo topo oh così dolce vieni da papà papà lui è un veleno oh mio dio 10.000 robux e per me un robux cosa ha solo uno solo uno voglio di più va bene figlio prendi questo figlio grazie non è giusto basta a a noob 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 Cosa ha fatto alla mia stanza? Papà Ha fatto questo? No, sei tu Bobcat, è troppo Ti cacciamo dalla famiglia Se vincerai la gara con tuo fratello, tornerai in famiglia Ah mai, è troppo lento Sono così povero Cerchiamo qualcosa da mangiare Ciao Perché sei così grande? E nella spazzatura Hai dei Robux? No, sto cercando la mia famiglia Possiamo portarti Guarda, sono veloce Wow, come? Mangia questo che avrà i gambe più lunghe Oh, ok Sono più veloce Dammi questo Ehm, chi è quello? Dammi questo Ha rubato i fagioli Ah, e adesso? Papà, sono così veloce Grazie Mi sto velocizzando Tornerò dalla mia famiglia Nom, nom, nom Te che? Oh mio Dio Papà, questo è disgustoso Devo andare sotto la doccia Mi dispiace, figliolo Nessun problema Figlio Cos'è questo? Figlio Pensa che io sia suo figlio Cosa? Oh mio Dio Era strano Oh Figlio, la gara epica è tra dieci giorni Devi allenarti Ok Ciao papà Ti batterò in questa gara Guarda, sono veloce Imbroglione Cosa mi hai fatto? Non posso correre adesso Sono così arrabbiata Ah, ah noob Sono così triste Non piangere, figliolo Ti aiuteremo noi Come? Oh mio Dio Le mie nuove gambe Ah, diventerò così veloce Li ho trovati nella spazzatura Grazie papà Sono così veloci Mi allenerò con i migliori Ragazzo blu Lui è il più veloce Gareggiamo Ok, andiamo 3, 2, 1, vai Non posso Hai vinto Grazie Vincerò questa gara per davvero Dobbiamo tagliargli le gambe Velocemente perché morirà Noob Ho perso le gambe Ci dispiace Ci dispiace Un altro modo per morire Sono così triste OMG Gara Inizierà tra dieci minuti Ho bisogno di avere nuove gambe O provare una sedia a rotelle Ah, ah, noob Ah, sei tornato Non puoi vincere senza gambe Perderò Fermatevi Ok, inizio tra 3, 2, 1 Vai Abbarato Non vincerò mai Possiamo portarti Mangia questo Avrai gambe più lunghe Non piangere Figliolo Ti aiuteremo Figlio Ok, papà Vincerò per te Ah, ora sono pronto Cosa? Ah Cosa? Non gioco più Ah Sono letteralmente troppo veloce Ma mi piace Aspettare Sento qualcosa Dateci il vostro portafoglio No, per favore Devo aiutarla Oh, my God Non riesco a muovermi Ah Non puoi muoverti No, wait Tu sei Eggman Oh, oh, oh Yeah Ma io sono Sony Ah Ciao È ora di finirlo Um Ha distrutto Ha distrutto Brookhaven Ho distrutto Popcat Ora è il tuo momento Dacci i soldi Ok Pensavano che io fossi distrutto e che potessero derubare tutti Eh? You are going to fall Grazie per avermi salvato Nessun problema Per te Oh, grazie ancora Nessun problema Ciao a tutti Qualcuno ha ucciso Bambalena E anche qualcuno ha ucciso NabNab Guarda fino alla fine perché troveremo l'assassino Chi è l'assassino? Aspetta Mettini giù Prima Bambam Vedo i tuoi denti su di lei Mi ha fatto arrabbiare perché era sempre migliore Yeah Uh-huh La 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 Ah, il mio braccio. Oh mio Dio, mi dispiace. Mani in alto. Mani in alto. Sei arrestato. Mindy l'hai uccisa. Ho solo morso la sua mano. Ma quando ho scappato dalla polizia ho iniziato a rapinare e sono finito in prigione. Impossibile che sia in prigione. Ma aspetta. Oh no, abbiamo la stessa cella. Ah, finalmente posso vendicarmi. Mio Dio, quindi l'hai uccisa. Il caso è chiuso. No, aspetta. Ho ucciso un poliziotto per salvarla. Ah, sei chiuso qui dentro. No. Mio Dio, mi hai salvato. Bacio. Mio Dio, quindi vi siete innamorati alla fine. Sì. Ok, passiamo al prossimo. Fata un uro. Stavo giocando con Bambalena e Nab. Oh mio Dio, è stato così cattivo. Ma poi si è vendicato su di me e Bambalena. Spero che nessuno mi spaventi di colpo. Amico, fammi uscire. Ok, quindi Nab Nab l'ha solo spaventata di colpo. Ma aspetta, cos'è questo? Il naso di Coach Piccol. No, mi stavano prendendo in giro. Dove sei? Ah, cos'è questo? Il mio naso. Lascia che lo tagli per te. No. No. Oh mio Dio, cosa è successo dopo? Mi sono vendicato su di loro. Ehi cane, mi puoi dare il tuo naso? Lasciate che lo faccia io per voi. Grazie. Ora di vendicarsi. Amo il mio nuovo naso. Ehi, è la tua fine. Ora è il turno di Bambalena. Ok, vedo Bambalena. Ehi, dammi il tuo naso. Ok. Grazie. Ehi, Bambalena. Muori. Ehi, 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 ehi. Brother, no, no, no. Ah. Quindi hai ucciso Nabnab e Bambalena. Non lo prometto. Impossibile. Figlio di Bamban, l'hai ucciso tu? Non sono stato io. Lo prometto. Ho invitato Bambalena al mio concerto. Ma Nabnab non piaceva l'idea. Ehi, Bambalena, ho fatto qualcosa per te. Cosa? Cosa sta pensando? Lei è la mia cotta. Ah. Quindi cosa è successo dopo? Mi sono vendicato. Ok, Nabnab, sei pronto per sentirmi cantare? Vai. Ah, tempo di riposarsi. Quindi l'hai ucciso. Caso chiuso. No. Impossibile. Chi lo ha fatto? Aspetta, c'è una siringa. Strumento del dottore. Penso che il rosso potrebbe ucciderlo. Non ero io. Cercavo di farli mutare. Ora di farti mutare. Mangia questo. Ah, no, 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 no. Ah, ora tocca a te. No, no. Ha funzionato Ah, e ora è il momento di unirvi. Muah, perfetto. Sapevi che avrebbe potuto ucciderli? Sì, ma non è successo. Mio Dio, l'umaca serina è il tuo muco. Li hai uccisi. NANI? No, in quel momento stavo inseguendo persone nella vita reale. Metti mi piace e iscriviti prima dello spavento per avere fortuna per 24 ore. Cosa stava facendo? Stava schivando meme lol. Ok, ma dimmi cosa sai di bambalena e nab nab. Mi ha buttato in piscina. Mio Dio, ti hanno buttato in piscina prima che foste mostri. Di nuovo. Aspetta. Ha dell'alfabeto. Hai ucciso bambalena e nab nab? Ero un peluche normale, ma lei sedeva sempre su di me. Tempo di sedersi. Un'ora dopo. Ho aggiunto delle spine su di me. Si pentirà di essersi seduta su di me. Tempo di sedersi. Due ore dopo. Ora aggiungerò dei cubi puzzolenti a A. Bambalena, ceniamo insieme. Ok. Prendi posto. Sarà la cena migliore. Oh no, no, meh. Sto rompendo con te. Aspetta cosa? Cinque ore dopo. Ultimo scherzo. Aggiungerò della TNTAA. Ah, o voglio dormire. Ho avuto una brutta giornata. No, no, no. Ah, aspetta. Agrer, è troppo. Hai distrutto la mia vita. Vieni qui. Cosa è successo dopo? Ti ha eliminato? Sì. Mi ha ucciso in cento modi diversi. Ti faceva male? Sì. Aspetta. Qualcosa sta dando i numeri. Amanda, l'hai fatto tu? Ho visto Bembalena e Nablab guidare una macchina e mi hanno investito. Tempo di guidare la mia nuova auto. Ferma, ferma. Ferma. Ah! Lei è uccisa. No. Lei è sopravvissuta solo con una botta in testa. Capisco. Ah. Prove no. Amanda. Anche lei è morta. Aspetta, vedo un coltello. Coltello dello sceriffo. Ehi, tu l'hai fatto. Stavo solo togliendo le loro maschere. Sono lo sceriffo e toglierò tutte le vostre maschere per vedere i vostri volt. Prima Bambalena. Amico. Altre maschere. Amico. Mio Dio. Altre maschere. Ehi. Torna qui. Amico. Cosa. Ok, prima la fata. Cosa? Justin. Pensavo avessi paura della fata. Ok, la famiglia di Zolfius. Wall-E. Oh my god. Amanda. Ora il puzzolente Joel. Per favore no. Sono brutto. Ah. Cacca. Fiddles. Sono bello. Vediamo ah. Skipping. Yeah. Ok, dopo Nibbles. Oh my god. Adam di Lenkibox. Amico impossibile. Ora per questo ragazzo del capitolo 4. Per favore, non fatelo. Ho dei figli e sono brutta dentro. Lo farò ah. Flamingo. Wow. Pazzesco. Prossimo Nab Nab. Sono la persona più brutta del pianeta. Non fatelo vedere. Non dirlo. Nessuno è brutto. Mio Dio. Così carina. Prossimo Jumbo. Oh my god. M. Chi sei? Ok, prossimo. Luma Casseline. Please don't do it cause 1M average. Lo farò. Jenna. Ok, abbiamo controllato molti di loro. Ora questo ragazzo, dà un nuovo capitolo. Vediamo il tuo volto. Bello. Prossimo Bambam. Vediamo. No, per favore no. Cosa? Rick. Ti amo. John Viola. Vediamo. No, per favore. Smettetela subito. Nonno di Squid Game. Prossimo è Squalo. No. Ah. Isho Speed. Prossimo, Pigster. Quattro. Kailus. Prossimo allenatore Pickles. Mister Beast. Wow. E ora tutti aspettavamo Nabnab e Bambalena. Mio Dio. Wow. Ok, quindi non li hai eliminati. Qualcuno ha sparato allo sceriffo. Ah, perché l'hai fatto? Hai ucciso Nabnab e Bambalena? Odiavo Nabnab perché mi entrava nell'occhio. Per favore esci dal mio occhio. E odiavo Bambalena perché mi rubava i bambini. Bambini, state qui e giocate a chi chiude per ultimo l'occhio. Ok. Tempo di rubare dei bambini. I miei bambini. Mio Dio. Quindi cosa è successo dopo? Così un giorno volevo dargli una lezione. Mi hai tradito, quindi ora ti insegneremo una lezione. Per favore no. Spavento. Aspetta, sono morti? Aspetta cosa? Sik, no. Aspetta, vedo qualcuno. Ehi, fermati qui. Ero innamorato di Bambalena. Sposerai Bambalena? Sì. Bambalena, lo sposerai? Sì. Aspetta. No, lui l'ha rubata. Ora baciami per sposarmi per sempre. No, per favore no. Per favore no. Ma è... No, perché lo hai eliminato? Perché chiedi? Ti stavo salvando. Ma è Justin. Stavamo scherzando con te. No, mio fratello. Quindi hai ucciso il falso NabNab. Sei un sospetto. Ah, ho pia. Perché? Era Zulfius, non io. Hai inciso Bambalena? Facevo colazione con il ketchup. Il mio cibo? No. No. Li hai mangiati tutti? Ero sazio. Cosa? Sentito uno sparo. Cosa? Amico rosso pensavo fossi morto. Dimmi cosa hai fatto. Stavo cercando di uccidere Bambalena e NabNab e ho fatto una competizione per gli spaventi. Tempo di uccidere il giardino di BanBan. Siete tutti a metà partita. Facciamolo. Chi ha vinto allora? Nessuno. Quindi non sappiamo ancora chi l'ha fatto. Aspetta, cosa stai facendo? Mio dio Pigster, quindi hai fatto tutto tu. Pensavo che avessi fermato il caso. Ero solo affamato. Ok, stai andando in prigione. Impossibile che sia stato Pigster. Ma ce l'abbiamo fatta. Evviva. Aspetta, chi è questo? Ciao, posso adottare questi bambini? Sì. Oh no, ci sta portando. Dove ci sta portando? Wow. Ti trasformerò nel mio nuovo progetto. Garden of Bambain. Mi sono fatto addosso. Niente pancetta. Sai una cosa. Mi arrendo. Non voglio più stare con la pancetta. Sto entrando. Wow, dove sono? Devi scegliere tra queste opzioni. Verde. Sono verde. Denti grandi. Wow. I prossimi sono occhi grandi. Wow, abbiamo occhi grandi. E l'ultimo. Sì, realistico. Wow. E sembriamo super cool. Quindi usciamo. O non riesco a uscire. O posso osservare il mio amico. Vediamo. Ok, sceglierò il rosso. Faccina sorridente. Cappello di compleanno o lingua. Lingua. Irrealistico. Ho finito. Sì. Bianco o oro? Bianco. Wow, cool. Il papiglione è bellissimo. Scelgo di essere alto. Gli occhi normali sono cool. Sembro fantastico. Arancione. Essere cieco o un occhio? Un occhio è meglio. Chi hai? Posso vedere. Gambe di ragno o tante gambe? Aspetta. Ho paura dei ragni. Wow, sembro un polpo. Testa di polpo. Ora sono un vero polpo. Nuotare è meglio. Aspetta. Cosa sta facendo qui l'acqua? Oh no no. Nel frattempo. Rosa o bianco? Rosa. Le gambe lunghissime della mamma fanno paura, quindi sceglierò le gambe di uccello. Wow, sembro un uccello. Il becco è il mio sogno. Cos'è questo? Questo è il mio becco. Yay. Ali o sorriso? Ho già le ali, quindi sorriso. Sono bellissima. Non riesco a controllare questo. Nel frattempo. Il blu è il mio colore preferito. Faccia da vampiro. Così spaventoso. Occhi confusi o strani? Gli occhi strani sono strani. Assomigliare a chi? Wow. Wow, dove siamo? Dottore, dica qualcosa. Ok, quindi sei pronto. Ma non mi piace come sono usciti il capitano e il polpo, quindi ciao. Cosa sta succedendo? No. Lo sta spingendo giù. Capitano Fiddles, no. No. Non ti preoccupare, bambam, sopravviveremo. Ok ragazzi. Mi sento come in Squid Game. Dottore, cosa dovremmo fare dopo se non ci uccidi? Infrangi tutte le regole del parco giochi e dopo ogni regola diventerai più realistico. Quindi, la prima regola è non scivolare da questo scivolo abbandonato. Posso andare per primo. Um è ok. Quindi, vai a scivolare. No, lo scivolo lo ha cambiato. Il mio turno. Wow wow, sono così alto. E magro. Ok, opi la verde. Il tuo turno. Oh, lei ha preso la pancia. No, sono grassa. Ok, quindi la prima regola è infranta. Wow. 3, 2, 1. Tempo per la prossima regola. Nessuna persona grassa. Sul parco giochi. Chi ha fatto queste regole? Vieni a mangiare con noi. E come ci trasformiamo in grassi? Oh, non importa. Ehi, sto arrivando. Non preoccuparti. Si, siamo così grassi. Ok, pesiamoci. Andiamo tutti. Mettiamoci sopra. E aspetta, pesiamo zero libre? Aspetta. Sei troppo grasso. Non puoi entrare. Non ci importa. Non ci interessa. Andiamo ragazzi. Ok, quindi siamo dentro. E l'abbiamo fatto. La prossima regola è infranta. E con l'aggiornamento. 3, 2. Wow. Prossima regola. Nessuna gallina sul parco giochi. Ho un'idea. Ehi, niente pollo nel parco giochi. Torna indietro. Oh mio Dio. Cosa è successo? La sicurezza è esplosa. La regola è stata infranta. O si è aggiornato. Ora è il mio turno. Sembro più realistico. Ora è il turno di Banban. E ora è il momento per non spaventare. Ok ragazzi, spaventiamoli. No, non puoi saltare nel mio parco giochi. Sto per spaventare le persone su questo ponteggio. Con una delle mie abilità. Posso cambiare le mie dimensioni. Ciao ragazzi. Ok, tempo per spaventare. 3, 2. Siamo stati distrutti. Andiamo Red. Spaventalo. Ok. E la regola è infranta. Tempo per gli aggiornamenti. Wow, ragazzi sembrate fighi. Ma io non sembro così bene. Andiamo alla prossima regola. Che è? Non rubare le uova da Opila Bird. Quindi dobbiamo rubare le uova da te. No da lui. Mio Dio. Chi è questo? Vado per primo. Oh mio Dio. Oh mio Dio. Ho così paura. E... Il mio turno. Si l'hai fatto. Hai infranto la prossima regola. Non rubare l'uovo. Aspetta perché non abbiamo avuto un'evoluzione. E troppo. Cosa sta facendo? Trasformato in una guardia buffa. Il prossimo è nessun omicidio sul parco giochi. Cosa è successo qui? Qualcuno lo ha ucciso. Devo trovarlo. O quindi qualcuno ha infranto la regola per noi o questo è bello. Cosa è successo con la luce? Penso di non riuscire a vedere niente. Opila Bird è morta. Sono sicuro che è stato blu a fare questo. Mani in alto. No, non sono stato io. Non so chi credere. Fratello è così difficile. Oh mio Dio. No, la luce è andata di nuovo giù. Oh no. Anche lui è morto. Ehi scusa se chiedo ma questo canale è nuovo quindi metti mi piace e iscriviti per aiutarmi a raggiungere i 100 iscritti sarò davvero grato e torniamo al video. Chi sta facendo questo? È lui. Ne sono sicuro. No, non lo sono. Sta incolpando il mio amico non posso permetterlo. Non è un assassino te lo posso promettere. Si lo so perché sono io l'assassino. Lui è l'assassino. Il detective è l'assassino. Aiutati. Sai una cosa. Lo spaventerò. Iai. Abbiamo infranto questa regola. Ed ora è tempo per l'aggiornamento. Come sempre. Wow. Sembro malato. Ed ora è il momento per il rosso. Vediamo. Io. Il prossimo nostrano sul parco giochi. Ehi sono la principessa e sto aspettando il principe e un bacio. OMG voglio essere il principe. No rosso aspetta. Devi farlo correttamente. Alla sta baciando. Oh mio dio. Cosa sta succedendo? No guardia di sicurezza. No si è sacrificato per noi. Il prossimo è non volare sul parco giochi. Lo farò non preoccuparti. Ehi. Smettila. Oh no lo sta inseguendo. Opila girati. Si l'hai fatto opila. Andiamo. Tempo per l'aggiornamento. Prima opila Bert. Ora io. Bam bam. Oh carino cagnolino. Quindi la prossima regola è non scivolare dallo scivolo più alto di sempre. Scivolerò ok. Uh. Uovo. Non ti è permesso. Di scivolare da questo. Non mi interessa. Wow. Sta scivolando. O no penso che sia morto. Significa che posso morire anch'io. Ma lasciami provare. O sto andando. Ouch. Fa male. Jumbo Josh ha fallito. Quindi è il mio turno. La regola è infranta. Ma sento l'aggiornamento. Sono blu. Il prossimo non scavare fino alla Cina. Sono in carne. Posso scavare. Siamo così vicini alla Cina. Scava più velocemente. Penso di averlo appena fatto. Possiamo scendere ora. O sono in Cina. Prendilo. O no lui è qui. Torno indietro. Non scavare fino alla Cina è infranto. Ora tempo per l'aggiornamento. Il mio amico sembra un Opila Bird ma è cambiato in Van Van. Ok è piuttosto cool. Ma la prossima regola è. Non spiare con il drone. Ok quindi ho un drone e lo userò per spiare. Funziona bene. So come guidarlo. Andiamo al. No non il bagno. Non so come usarlo. Aspetta cosa sta succedendo qui. Ah. Guardia di sicurezza. Aspetta. Accenderò l'audio. Ciao bagnino. Ti vedo. Baciami. Aspetta. Aspetta cosa. O mi stanno picchiando. Si sono uscito. No. Aspetta mi sento aggiornato. Io perché sono una ragazza. Ma ok non importa. E il prossimo è no TNT sul parco giochi. Tempo per la TNT. Il razzo. Lanciamolo. Sei sicuro di quello? Si ma dobbiamo uscire dal parco giochi in due secondi perché questo razzo esploderà ragazzi non fatevi prendere dal panico possiamo uscire in qualsiasi momento. Aspetta aspetta. Mi sono sacrificato. Ma si. La regola no TNT è il frano. Sembro così fico. La prossima regola è non fare quiz sul parco giochi. Ehi. Come si entra? Ho inserito questo quiz e non sono mai entrati. Spostati. Lo farò io. Bam bam. Si l'ho fatto. Quindi il prossimo è. Flamingo. Si ho indovinato giusto. Questo è blu ok. Boxy Boo. Perché sembra dalla vita reale. Boxy Boo. Bello. E ora abbiamo l'amico verde. Facile. Oh no. Chi è questo? So chi è. Jumper George. Va bene. Andiamo avanti. Ora abbiamo l'arancione dell'amico arcobaleno. So tutte le risposte. Va bene. Capitano Fiddles. Capitano Fiddles Gigachad. Ora abbiamo il rosso. È facile. Uh. Qui abbiamo la mano da mercoledì. E l'ultimo è. Oh mio dio. Ho dimenticato il suo nome. Ragazza. Bam bam ragazza. Ok ho cercato e ho trovato la risposta e l'abbiamo fatto. Come? Wow. Sono solo intelligente. Sì signore. Ovviamente abbiamo infranto la regola come sempre. Ok ho un'idea su come infrangere le prossime regole. Che sono non stare alla fine dello scivolo. E non mangiare persone. Ora mi metterò alla fine dello scivolo e inizierò a mangiare le persone che scivolano. Ok mi chiedo se qualcuno scivolerà adesso. Oh aspetta ci sono tre bambini. Facciamo scorrere tre in una volta. Ok. Oh sì. È stata un'esperienza piuttosto grandiosa. Aspetta mi sono reso conto che quei bambini sono nella mia pancia. Oh no. Siamo dentro la sua pancia. Io ho paura di aprirlo. Un aggiornamento. Prima opi la verde. Oh è il mio turno. Bam bam. Ultima evoluzione di lui. Quindi non saltare sul trampolino sul parco giochi. Ragazzi stiamo saltando sulla luna. Ehi non si salta qui. Oh no la guardia di sicurezza è qui. Dobbiamo saltare più in alto. Uno e. Sì. Sto volando. E ora. Tre. Due. Uno. E schianto. Aspetta ho distrutto il parco giochi. Non ci posso credere. Ho distrutto l'intero parco giochi. Ma ho infranto la regola questo è fantastico. Non aprire giocattoli strani sul parco giochi. Ok quindi ho ordinato queste scatole dal dark web. E ora. Bambini venite. Chi vuole giocattoli gratuiti. Mettetevi davanti. Io. Io. Aprirò per primo. Che cos'è questo? Bello. Ok quindi ora potete aprirlo. Oh Bacon è il primo. Oh non sapevo che sarebbe successo. Ok il prossimo. Io. Ho paura di aprirlo. Oh no mi dispiace Bacon Girl. Iai non l'ha ucciso. Io. Fammi aprire questo. Wow dolce gatto. Andiamo. Bro sì. Ne abbiamo solo altri cinque da fare. Non compleanni sul parco giochi. Aspetta. Opila sta facendo un compleanno. Ok. Ti darò questo giocattolo. Cos'hai fatto mi hai spaventato. Ecco un regalo per te. Telefono non lo voglio. Qui per te. Fiori non sono la tua ragazza. Ok tocca a me. Opila non ti sto dando niente. Cosa? Quindi la regola è infranta. La prossima è no bullismo. Che è effettivamente una grande regola. Vedo qualcuno qui. Ah non hai amici. Ah. Oh no la stanno bullizzando. Devo fermarli. 3 2 1 E spavento. L'ho salvata. Andiamo. Ehi noob verde. Ehi noob verde. Oh no stanno bullizzando me. No. 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 Lasciami in pace. Oh. Ho perso. Ma ho infranto la regola. No bullismo sul parco giochi. Ok quindi tempo per l'aggiornamento. Wow. Opila i treni. Andiamo. Ora e poi il treno di Jumbo George. E il treno rosso. Questa regola è non aprire pacchi da anonimi. Ok quindi questo ragazzo ha consegnato un pacco dal dark web. Ecco il tuo ordine. Ok quindi adesso proverò ad aprirlo. Oh no cos'è questo? Cos'è questo fratello? È probabilmente la cosa. Di mercoledì. Quindi la regola è infranta. Non salire sullo scivolo dal lato sbagliato. E non cancellare il parco giochi. Quindi scommetto che ci arrivo in 3 secondi. 3 2 1 È così rischioso. Non fare mai questo sul parco giochi. Io siamo dentro. Cos'è questo? Lascia che scelga l'amico blu. Ok aspetta. Chi è questo? Oh no è un amico blu. Ha un aspetto disgustoso. Io sono uscito. Andiamo. È infranto. Ok l'ultima regola non cancellare il parco giochi. Quindi l'unica cosa che devo fare è cancellare il parco giochi. Ed è tutto. Ce l'abbiamo fatta. Tempo per l'aggiornamento. Stiamo guardando così bene. Proprio ora. Oh amico rosso. Wow finalmente sembri fantastico. Ora possiamo distruggere il mondo insieme. Non distruggeremo il mondo con te. Cosa? Si hai sentito bene. Non siamo cattivi. Siamo persone buone. E vogliamo l'amore sulla terra. Non combattere sai. Ok quindi ti metterò in prigione come gli amici arcobaleno. Guarda aspetta non puoi fare questo. Si posso. No siamo in carcere. È il momento del giudizio. Oh no è ora del nostro giudizio. Devo correre. Oh wow c'era un buco. Ora posso battere questo poliziotto. Sì l'ho battuto. Sì ho preso la sua divisa. E ora posso valutare la gente. Andiamo. Giudicateli. Ok Hopi la vediamo cosa hai fatto. È caduta nel corridoio mentre inseguiva i giocatori. Umme. Mi dispiace ma questo è piuttosto brutto opila. Il prossimo. Voleva che qualcuno l'amasse. Per me è buono perché tutti dovrebbero avere qualcuno da amare. Ok. Sto scegliendo bene. Stava mangiando bambini invece del cibo per uccelli. Mi dispiace per questo. Oh no questo è disgustoso. Oh mio dio. Quindi il prossimo. Faceva la cacca addosso alle persone mentre voleva. Oh no way. Ok i risultati mostrano. Che sei stato cattivo. Ma non preoccuparti. E vai al bene. Grazie fratello. Hanno spaventato insieme. Oh questo è davvero buono. E l'ultimo volevano avere un bambino. Vai vai puoi andare. Quindi sono usciti e anche io me ne vado. Perché sono un poliziotto e ci vediamo nel prossimo video. Mi sta inseguendo e si è tu. Ho visto tutte le vostre vere facce. E ora è meglio che vi nascondiate o ve le mostrerò. Aspetta cosa. Scappiamo. Non posso scappare. Mi nasconderò dentro. Qui. Wow. Bel posto. Vi vedo. No. Oddio ho sentito qualcuno morire. Lei l'ha ucciso. Trovarli è troppo difficile. Devo accendere i raggi X. Vedo qualcuno lì. Salta su. Ok. Il prossimo è qui. Lei è lì. Aspetta cosa è questo. A stella. Dove? Corri. Ciao ciao maiale. Schierare un nuovo mostro. Ok. Devo trovare il prossimo posto. Aspetta. Questo è il nuovo cercatore. No. Qui. Pensavo che ci fosse qualcuno qui. Ma ti vedo. No. Penso che se ne sia andato. Velocemente. Wow. Perfetto. Ti vedo. Penso di sapere dove si trova. No. Dove devo andare? Corri. Facile. Vieni un nuovo mostro. Oh no. Nuovo mostro. Corri. Qui. Umì questa stanza non sembra sicura. Oh no. Non so dove scappare. Wow dove sono? Oh no. È la mia fine. Devo saltare. È l'unica opzione. A. A è morto. Non ancora A. Nel frattempo. Sono tornato. Ed è ora di imbrogliare a nascondino. Drone. Che cos'è questo? Ti ho preso. Oh no. Sta barando. Non è giusto. Aspetta. È tempo di scivolare. Aspetta no. Dove dovrei nascondermi? Qui. Ok. Velocemente. Ora via. Finalmente. Qui siamo al sicuro per ora. Oh grazie bambalena. Hai anche una piscina qui. Non sembra normale. Vero ma aspetta. Cosa? Guardate dietro di voi. Di cosa stai parlando? Oh no. Stinger. Vieni qui. Oh no. Nascondersi velocemente. Forse qui. Ok. Devo trovare un nascondiglio. Mi chiedo se c'è qualcuno qui. Oh no. Qui. Dove? No. 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 Oh cibo. Mi sento così bene. Mi vedrà. Sento l'odore di qualcuno. Oh no. Scappo. Torna. Così vicino. Ragazzo. Resterò qui. Devo usare il bambam volante. Cattura qualcuno. Ok. Non c'è modo. Come mi hai trovato? Oh no. Velocemente. Pozione. Non c'è modo. Dove è andato? Non lo saprai mai. Bye. Have a great time. Ah facile. Me ne vado da qui. Veloce. Ho bisogno di un uovo nascondiglio. Aspetta qui. Wow. Oh my god. Wow. Ehi. Ehi. Cosa ci fai qui? O me nascondersi. Attacca. No. Non c'è modo. Correre. Cosa hai fatto? No. Torna Popka. Correre. Pulsante. Wow. Questo è epico. So dove è andato. Mi servono rinforzi. Siamo qui. Prendilo. Non stanno arrivando. Devo uscire. Oh. La prossima pozione. Sono fortunato. Bego. Bello. Dove è andato? Oh. Lo vedo. Epico. Scappo via. Facile. Oro wow. Nel frattempo. Sento che c'è qualcuno qui. Aspetta. Uno. Mi ha trovato. Vieni qua. No. Mi dispiace maiale. Ma è la tua fine. No. Wow. Ho trovato questo posto illuminato. Il cercatore è qui. Devo stare attento. Popcat. Spara. Ok. Bravo Popcat. Oh no. Qui. Wow. Il miglior nascondiglio di tutti i tempi. Dove sono e chi è questo? Dottore che sta arrivando. Come? Dove è andato? Un giorno dopo. Ok. Sono rimaste solo cinque persone da mangiare. Schierare due mostri. Credo che questo maiale sia troppo lento per fendereci. Umè aspetta. Nu. Nascondersi velocemente. Evviva. Penso che questo maiale sia troppo lento per prendermi. Aspetta. Jumbo. Nab Nab. Sono laggiù. Stanno arrivando. Nasconditi. Ci sono solo alcuni polli. Co 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 co. Non siamo sus. Metti mi piace e iscriviti per avere l'uovo d'oro accanto al tuo letto domani. Bye. Have a great time. Era così vicino. Un'ora dopo. Questo posto è orribile. Umè aspetta. Siamo nuovi cercatori e vi prenderemo. Fratello e sorella lo attaccate. Sposto. Umè. Pensa che non lo troveremo. Oh no. Cercherò di nascondermi nel frigorifero. Adesso. Aspetta cosa c'è dentro. Pozione. Cosa. Devo berla rapidamente. Umè. Ti vediamo. Noi ti vediamo. Devo diventare più piccolo. Sto uscendo. Oh no. Veloce. Morirò qui. Non c'è posto per nascondersi. Umè cosa. Torna. No. Devo scappare. Wow un nuovo posto. Vedo pigster. Prendetelo ora. No. Scappo. Umè sono dentro di lui. Fratello l'hai mangiato? Oh mi dispiace tanto. Usciamo da qui. Aspetta sono ancora dentro di lui. L'hai preso? Sì. Sto uscendo da qui. Umè. Aspetta come. Uno. Scappo. Qui. È scomparso. Ok. Ci servono altri mostri. I bambini entrati. Ora prendeteli. No. Stanno arrivando. Mi nasconderò. Qui. Bello. So che è lì. Lui è. Lui veloce. Ciao. Ehi. Torna indietro. Siamo così grassi. Ok. Ce l'ho fatta. Sono in classe con Bambalena. Bambalena. Pensavo fossi morto. Oh. Non importa. Lei è morta. Hoppia ciao. Nasconditi Popcat. Oddio. No. Ah. No. È morta. Pensi che non sappia dove sei? È la tua fine. So dove sei. Dove è andato? 20 secondi prima. Devo uscire da qui. Oh. Wow. Oh no. Ho sentito che Stinger è morto. Penso che nessuno mi troverà. Ti vedo. No per favore. Qui. Umme. Vieni qui. Sì mamma prendilo. Lasciami in pace. Lei è un perdente in piedi. Quindi siamo vivi solo io e Giambo. Solo vivo ma aiuto. Qui. Wow. Sono troppo grasso. Lo farò per te mamma. Oh no. Sta entrando. Wow. Sono al sicuro qui. Non per molto. Ma qui di sicuro. Non c'è modo. Non c'è modo. Giambo è morto. Quindi ora devo sopravvivere e vincerò. Aspetta. Non c'è modo. Quale scivolo scegliere? Pigster. Sono nello scivolo. Oh no. Chi è questo? Torna. Sto scegliendo questo. Oh no. È la mia fine. No fratello. Siamo qui per aiutarti. Oddio Nub Nubs. Non c'è modo. Wow fratelli. Abbiamo vinto. Grazie a tutti per aver guardato. È tutto per oggi. Ricordate. Non mollate mai e poi mai. Ragazzi. Ciao.